E intanto insomma dopo i fatti di ieri molti si preoccupano e parlano anche di allarme sociale a Pescara dopo l'episodio appunto di ieri. Noi di questo vorremmo proprio parlare con il nostro Luca Pompei collegato con noi in diretta. Luca buongiorno a te, vorremmo commentare anche la reazione in qualche modo dei cittadini che hanno commentato appunto sui social quanto accaduto ieri. Allora di cosa si parla sui social? Come questa notizia ovviamente è stata ripresa? Si può parlare di allarme sociale? Anna un buongiorno a te, un buongiorno anche a tutti gli amici telespettatori. Intanto su questo tema questa mattina il nostro Enrico Giancarli ha voluto ascoltare il sindaco Carlo Maci perché l'episodio è stato certamente inquietante e comunque meritevole di un approfondimento. Intanto abbiamo chiesto a Maci reazioni varie sull'ordinanza per quanto riguarda gli orari notturni, altro elemento fondamentale per quel che riguarda la tutela della sicurezza non solo sanitaria. E poi abbiamo chiesto a lui anche un commento su questo episodio in questa diretta social con il nostro Enrico Giancarli. Lui non è voluto entrare ovviamente nel dettaglio della vicenda che come avete ascoltato dall'ottimo servizio della nostra Marina Moretti va al di là della semplice rapina ma potrebbe avere risvolti ben più ampi. Carlo Maci dunque si è limitato però a dare qualche dettaglio su quella che è la tutela della sicurezza nella nostra città riponendo ancora grande, grandissima fiducia nelle forze dell'ordine, in particolare polizia, carabinieri e guardia di finanza e sottolineando anche l'impegno e il grande contributo della polizia municipale che proprio nei giorni scorsi ha svolto un'operazione importante per quel che riguarda la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Insomma una città da tenere sotto controllo dice Carlo Maci ma che insomma anche sentendo le parole del capo della squadra mobile Dante Cosentino che parla di città non omertosa ecco la risposta della città nell'attenzione rispetto a determinati fenomeni fa ben sperare. Questo è quanto Anna poi l'appuntamento ovviamente per il pomeriggio con i dati sui contagi covid nella nostra regione. Tutto a te la linea.